Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, noi siamo in Gangster Link e oggi faremo uno scherzo delle foto Allora, andiamo a chiamare, come on, ok baby 3290 3 4 F*** F*** Dai ve l'ho occhio a questo Beatles, non tagliare Beatles, non è morta Buonasera, siamo della segreteria Cop Volevo sapere se ti interessa una promozione che in pratica ha i 5 euro gratis Pronto? Ti interessa la nuova promozione Cop 5 euro gratis? Pronto? Eh? Niente Signora Allora, se lei interessa, chiama questo numero che la darò 33 Non posso segnare Sulla testa Signora Allora, scrivi per favore, è una cosa importante, se la interessa, se no niente Allora, scrivi questo numero, 33 Scrivolo, scrivo adesso su, sulla tastiera, sulla tastiera, un attimo Ma l'ho visto adesso Eh, io adesso mi sto incazzando veramente, eh So chi sei Sei Bito Ti vengo a cercare, non sai? Amici a Roma Scusa, stavo cacando Oh, ciao, scusami tanto, noi siamo un canale di YouTube Siamo GangsterLink E il tuo numero mi ha dato una tua amica, adesso non ti faccio nome Vuoi salutarti? Siamo riprendendo in pratica Ah, ciao Saluto a tutti, vai, ciao, di forza Gangster Di forza Gangster Grazie mille, buona serata Ciao, bella, ciao Ciao Bella, madonna Francesca Vi can't stop Schifo, mi chiede, mi chiede, mi chiede Dai, non rispondi, tu non è così o no Ma lo sai dove rispondi? Sì Non mi hai sponato l'eserio Ma la conosco anche questa, bene? Sto cagando Questo non è così È tanto caro Io mi stavo crepando a risale Sto cagando Io so che è scato, aiuto Anche lei stavo Sì, ho mangiato L'ho spento, raga Pronto, sono la tua professoressa Lucina E fatti i compiti Ma vaffanculo cosa Io chiamo a chiamare i tuoi genitori, eh So dove abiti Dai, richiamo, richiamo a Mazzica, dai Yeah, con un semplice Mazzica è vero Ma lei non ci sta Mi svegli più, ma lei non ci sta Buonmine A me si fa Lei non ci sta Ehm Sì 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 Grazie a tutti.